Ascom finalmente dopo tre anni ritorna in fiera, finalmente ritorniamo ad avere contatti, finalmente ritorniamo a esporre il nostro brand e i nostri marchi. Cosa è successo in questi tre anni? La rivoluzione. Indubbiamente è cambiato tutto, sono cambiati gli scenari, sono cambiati l'approccio alla sanità, l'approccio alle soluzioni e come effettivamente Ascom affronta questo mercato. Ascom è un'azienda che offre prodotti ma offre anche una vasta gamba di servizi e supporta i clinici nella progettazione e disegnazione dei flussi grazie a personale che ha sviluppato competenze tecniche e cliniche all'interno dei progetti che portiamo avanti con l'idea. In questi tre anni e in particolar modo a causa della pandemia abbiamo dovuto per forza di ossa cambiare l'approccio. Ci vede impegnati nella digitalizzazione dei processi per quanto riguarda un'analisi predittiva dell'insorgere di complicanze per il paziente. Oggi siamo qui, le nostre parole chiave sono flussi di lavoro, sono integrazione, sono collaborazione, sono interoperabilità e affidabilità soprattutto. La funzionalità che offriamo è supportare tutto e per tutto il clinico nel trasportare quella che è l'esigenza del processo in software. La nostra piattaforma consente agli operatori sanitari di migliorare il loro lavoro nelle corsie delle strutture ospedaliere e anche delle strutture RSA. Possono gestire degli allarmi che vengono presi in carico dalla nostra piattaforma e vengono dispacciati sui nostri terminali. Gli operatori hanno la possibilità così di gestire qualsiasi tipo di informazione e di allarme che viene generato all'interno della struttura ospedaliera. Questo com'è possibile? Possibile tramite la generazione automatica di allarme e chiaramente grazie a tutta quella che è una comunicazione stretta tra lo staff clinico ed infermierista. Abbiamo dei project manager, dei software engineer che hanno sviluppato negli anni capacità comunicative molto elevate e traducono egregiamente ciò che viene assegnato da clinici e personale sanitario in genere. La nostra piattaforma ha la possibilità di integrarsi a qualsiasi tipo di impianto telefonico e gestire così degli allarmi che vengono generati magari da un sistema antincendio piuttosto che da un sistema di videosorveglianza, mobilità. Diamo la possibilità di lanciare degli allarmi nel caso in cui avessero un'emergenza, un'urgenza. È possibile localizzarli per intervenire e soccorrerli. Grazie.